Prima di iniziare con il video ti ricordo che è ufficialmente online la nuova vendita delle ricoveri per PS4 quindi se vuoi ricevere aggiunte di soldi, dell'Axo e proprietà sul tuo account devi contattarmi su Telegram, iscriverti al canale e attivare la campanina a fianco al tasto iscriviti Inoltre ti ricordo di entrare nel gruppo Telegram, siamo quasi 500 membri ed è molto importante che tu entri se vuoi ricevere tutti gli aggiornamenti di GTA 5 Online relativi ai nuovi video glitch di Pablo GTA Ita dove puoi andare a guadagnare milioni Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video glitch di GTA 5 Online in questo video ragazzi nuova attività moddata dove potrete andare a fare 60.000 dollari ogni 20 ondate signori e signori si tratta di un'attività FK in parziale perché voi ragazzi non dovrete assolutamente muovervi, farà tutto il gioco automaticamente ma purtroppo non potrete lasciare la play accesa a svolgere l'attività da sola la dovrete andare a riavviare voi, l'unica pecca di questa piccola attività signori e signori prima che inizi il video e vi mostri l'attività vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina, entrare nella ciuma soprattutto nel gruppo Telegram se volete ottenere il link dell'attività che quindi si trova qui nel link in descrizione dove troverete anche ovviamente il link per andare ad acquistare i miei account moddati e le recovery per PS4 quindi contattatemi su Telegram se volete queste aggiunte di soldi sul vostro account e possiamo iniziare immediatamente aprendo il tasto option, dirigendoci su online, attività preferiti e aggiungiamo l'attività che abbiamo appunto presa tra i preferiti ovvero una sopravvivenza si tratta di questa qui ovvero la prima qui nel mio elenco e la andiamo ad avviare a questo punto ragazzi quando l'avremo avviata compariremo qui nel menu a tendina classico di GTA V online qui non dovremo andare a modificare praticamente nulla poi ovviamente se vogliamo farla con un amico possiamo farla anche con lui ma è molto semplice potete farla da solo tranquillamente perché appunto ci permette di avviarla anche se siamo un giocatore su 4 quindi andiamo su conferma opzioni e andiamo ad avviare l'attività prima che inizi l'attività ragazzi vi ricordo anche che sono online i due glitch duplicazione massiva sul canale dove potrete andare a duplicare issi e fare milioni facilissimamente a questo punto ragazzi vi voglio anche ricordare che c'è anche la printer griffin nella lista dei glitch ancora funzionanti quindi andate a prendere il link sul canale telegram scorrete verso l'alto e lo troverete prima o poi una volta quindi che avrete avviato la vostra attività quando spawneremo ragazzi molto semplicemente ci troveremo in questa situazione ovvero con dietro non capisco che cosa sia onestamente non ho neanche controllato dovrebbero essere delle molotov o comunque delle granate con questa sorta di recinzione qui davanti adesso ragazzi quando saremo qui molto semplicemente aspettiamo che si avvii l'ondata che ogni 17 secondi si avvierà potete iniziare subito già a sparare qui di fronte se volete oppure potete restare fermi con il controller a non fare assolutissimamente nulla perché a un certo punto come potete vedere inizieranno delle varie esplosioni e elimineranno automaticamente i nostri nemici praticamente noi non stiamo facendo esattamente nulla come potrete vedere infatti alla fine della prima ondata dell'attività noterete che appunto il mio personaggio ha raggiunto 0 kill quindi ragazzi non ha smosso neanche un dito abbiamo sparato soltanto alla recinzione come potete vedere qui a questo punto ragazzi si riavvierà immediatamente compariranno altri 18 secondi di attesa ondate e così ragazzi proseguiranno tutte 20 le ondate al termine delle 20 ondate questa attività ci dovrebbe dare 60.000 dollari quindi signori e signori attività perfetta io ve la consiglio per quelli che vogliono farmarsi dei soldi facilissimamente ma inoltre vi consiglio di andarmi a seguire su instagram se volete farmi appunto le richieste riguardanti la vendita degli account moddati e delle recovery ps4 molto importante signori e signori l'attività è ormai conclusa io vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina a fianco al tasto iscriviti lasciare un like ma soprattutto di condividere il video con i vostri amici e inoltre ragazzi se volete acquistare appunto questi prodotti molto semplicemente mi contattate o su telegram o su instagram quindi seguite i link tutti i link sono in descrizione un saluto da pablo gt a ita e bella ragazzi